Oggi ci immergiamo nella rivelazione scioccante di Ilari Blasi sul tradimento di Francesco Totti con Noemi Bocchi. E cosa c'è di meglio che seguire questa storia avvincente insieme a voi, appassionati di gossip? Il nostro docufilm esclusivo Unica ha svelato tutti gli indizi che hanno portato a scoprire questo tradimento, partendo dalle rivelazioni della piccola Isabel, figlia di Ilari, fino all'incontro sotto mentite spoglie con un investigatore privato. Ma c'è un colpo di scena, Totti ha notato l'investigatore e si è fatto sgamare. Una vera caccia al gossip. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli esclusivi su come Ilari ha cercato di raccogliere prove concrete, gettando luce sulla verità dietro questo scandalo. Ma la storia non finisce qui, quindi state con noi fino alla fine. Prima di continuare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Gossip News Ita, lasciate un bel mi piace e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo caso esplosivo. E ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con le notizie più succulente del momento. Contenuto del video? E così concludiamo questo avvincente episodio di Gossip News Ita. Se vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e commentare qui sotto cosa vorreste vedere nei prossimi video. Grazie a tutti gli spettatori fedeli di Gossip News Ita, siete la spina dorsale di questo canale. Ci vediamo nel prossimo video. E ricordate sempre, il gossip è solo l'inizio delle nostre storie intriganti.